Io dico sì alla riforma costituzionale perché credo che sia l'opportunità per avere un efficientamento del procedimento legislativo, per avere una rappresentanza degli enti territoriali là dove conta, cioè nel Senato della Repubblica. È l'occasione anche per provare a cambiare il nostro Paese nel suo assetto principale perché è facile lamentarsi, è facile dire no così la politica non funziona, così i governi non riescono mai a combinare niente, così i politici non fanno niente, non lavorano, è molto facile. Questa è l'opportunità, dicendo e votando sì, per cambiare la situazione, altrimenti se uno vuole votare no prende coscienza che questa situazione è quella che preferisce, quindi quella dello stallo, quella di auspicare un governo che si accordi con un'altra parte, un'altra ala del Parlamento e tutti insieme felici facciano leggi e governino il Paese. Se uno vota no si ritrova tutti i problemi che abbiamo fino ad ora. Votando sì c'è quantomeno la speranza di un cambiamento, la speranza che qualche cosa cambi perché è più veloce il procedimento legislativo, sempre però stando attenti che ci sia anche la qualità. Anche i padri costituenti, in particolare Meuccio Ruini che era il presidente della Commissione per la Costituzione, nella sua relazione finale, quando il testo della Costituzione uscì dalla Commissione, pronunciò delle parole nelle quali, disse, pur dando alla nostra Costituzione un carattere rigido, abbiamo consentito un processo di revisione. La Costituzione sarà gradualmente perfezionata e resterà la base definitiva della vita costituzionale italiana. Noi stessi, i nostri figli, rimedieremo alle lacune e ai difetti che esistono e sono inevitabili e lo ribadisce di nuovo. Difetti ve ne sono, vi sono lacune e più ancora esuberanze. E in conclusione la seconda parte della Costituzione, quella che la riforma costituzionale modifica, ha presentato gravi difficoltà e in conclusione dice, ne ho parlato qui più volte, anche oggi confermo che le soluzioni adottate erano dopo tutto le sole possibili, quindi frutto del compromesso, in attesa che l'esperienza indichi ulteriori processi e adattamenti. Quindi già i padri costituenti avevano pensato di approvare questo testo costituzionale e vederlo all'opera, come poteva funzionare. Qui abbiamo l'esperienza di come la nostra Costituzione ha funzionato, bene, molto bene per l'80%, ma c'è quel 20% che questa nuova riforma vuole cambiare e che sperimentandola potremo capire se funziona o no. Secondo, me sì.